C'era una volta, in una bella casa azzurra vicino a città del Messico, una bambina di nome Frida. In convento le bambine imparavano a cucire, ma non avevano molti colori. Se le piccole e leggere, che i bambini potevano spostare facilmente. Perché gli edifici che progettava erano strutture molto audaci e sinistiche. Mas invito Ada a vedere la sua invenzione, la macchina differenziale. L'istruzione è potere per le donne. I talebani. Il governo russo mandò l'esercito per impedirlo. Scoppiò una tecnica. Lella era così brava a guidare che stabileva un nuovo record a ogni con sé. Questo non le impedì di giocare, nuotare e scatenarsi come tutti gli altri bambini. I bianchi e i neri non potevano trascorrere del tempo insieme e non potevano nemmeno. Quando Mia non riusciva a dormire, Micaela raccontava una storia della buonanotte. Divennero migliori. Sapeva volare nell'aria con una grazia e una velocità stupefacenti. Volteggiava, roteava e atterrava. Il posto preferito di Margherita era l'osservatorio di Arcetri. Su una collina di Firenze scrutava i cieli attraverso un enorme... Qualche anno più tardi, mentre era al teatro dell'opera con la zia, Tamara vide un uomo nella folla. Pensavano che le donne davvero facessero solo questo, cucinare e pulire, badare ai bambini. Nella biblioteca di Alessandria, seduti fianco a fianco, un padre e una figlia studiavano insieme filosofia, matematica. Sania amava così tanto suonare che divenne una maestra di pianoforte. Divenne astrona e direttrice del settimo. In un villaggio della Pensilvania c'era una bambina che si vestiva sempre di rosa. Si chiamava Nelly. Gli ebrei non potevano lavorare all'università. Rita fuggì in un'università. Da sempre Lidia e le sue amiche cucinavano per gli alpinisti, prima che lasciassero i campi base, per scalare la montagna. Un giorno fu invitata a una conferenza, organizzata dalla Rete dell'Africa Occidentale. A quel tempo le ragazze dovevano indossare corsetti molto stretti e strati di sottovesti sotto le gonne. Invenzione il tuo nome è donna. Al Teatro Sociale di Como il 14 maggio alle 20 e 30 con Licia Colò e tante donne coraggiose comasche che leggeranno per voi storie di bambine ribelle. Vi aspettiamo!